Ciao a tutti, oggi prepareremo il riso con i fagioli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Ingredienti sono riso di tipo carnaroli, fagioli lessati, acqua, scalogno, carote, pomodorini, sedano, dado vegetale bimbi, foglia di alloro, olio evo, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodorini, il sedano, lo scalogno e la carota ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi velocità 2 Aggiungere i fagioli il dado il pepe il sale la foglia di alloro e l'acqua ed azionare il bimbi per 8 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft Aggiungere il riso mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 18 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft il riso è cotto impiattare e servire riso con i fagioli grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 Grazie a tutti.